Grazie Antonio. Io passo la parola a Tommaso Ebert. Tommaso è giornalista, scrittore, direttore di Bloomberg Economia per l'Italia e ho chiesto a Tommaso di fare le veci di casa. Buonasera a tutti. Io ho l'archetto. Buonasera a tutti. Vi chiederete perché il cantiere dell'economia? Basta guardarci quello che stiamo facendo tutti in questo momento. Io vengo da Milano. Il 23 agosto a Milano è stata la giornata più calda degli ultimi 260 anni. La centralina di Brera non aveva mai rilevato nella sua storia una temperatura così alta. Siamo arrivati qui. Queste giornate, questo livello di caldo non è normale. Dalla città da cui vengo a Milano, quando si è interrotto il caldo a luglio, è arrivata una tempesta simile alla tempesta Vaya che ha distrutto migliaia di alberi nelle Dolomiti. Sotto casa mia a Milano sono stati distrutti. In 20 minuti 5.000 alberi, molti di questi secolari. Il parco giochi dove gioca mio figlio ha ancora un albero lungo 25 metri al posto delle panchine. Non vendere fuffa. La Vaya ha distrutto milioni di alberi. Con 5.000 alberi voi in qualche maniera fate un boschetto. Marco Paolini, il padrone di casa. Come facciamo oggi? Allora, cerchiamo di essere un po' disruptive. Cosa vuol dire disruptive? Vuol dire che questo deve essere un dialogo e non deve essere una lezione. Quindi avremo dei relatori, ma sentitevi liberi di fare, non proprio come ha fatto Marco Paolini, perché se lo fate la terza volta c'è un po' paura, però di intervenire, alzate la mano, cerchiamo di interagire. Funzionerà così. Un keynote speech in cui parliamo di bene comune e quindi parleremo dell'importanza dell'acqua, poi ci sposteremo su altri fattori fondamentali nel cantiere dell'economia, come quello dei migranti, che in questo paese è una parola che ancora porta a tante contraddizioni quando si parla. Vi ricordo che il ministro dell'economia, Giorgetti, l'altro giorno nel meeting di Rimini, proprio per stare sul banale, sul soldo, ha detto che con questa situazione di denatalità in Italia non c'è nessuna riforma pensionistica che possa funzionare. Cioè le pensioni a noi giovani non le pagheranno i vecchi perché non ci saranno abbastanza vecchi e quindi anche se vogliamo essere egoisti questo paese ha infinitamente bisogno di nuove generazioni che vengano da qui o che vengono d'altrove. Vi presento gli interlocutori di questa sera. Allora, Luigino Bruni, storico del pensiero economico, Alessandra Ballerini e quando arriva Alessandra adesso apriamo tutti uno striscione ma prima facciamo entrare anche Marco Aime, antropologo, scrittore, africanista e mi sono perso Valero Calzolaio che si era già intrufolato, saggista, scrittore. Adesso prima di tutto ricordiamo Giulio. Grazie. e do subito la parola a Luigino Bruni per iniziare il nostro cantiere dell'economia bene, buonasera a tutti grazie per questa opportunità la fabbrica del mondo e grazie a tutti voi per essere qui io a Sisi per me è una delle patrie di questi ultimi anni in particolare dove vengo spesso sempre per per delle ragioni che a cui attribuisco molto valore non ultima l'economia francesco di cui mi occupo da qualche anno e che a Sisi è un po' il centro con il sindaco, con il vescovo e con tanti amici vedo qui anche dei giovani che sono protagonisti di questa realtà bene, il tema di oggi che svilupperemo insieme con i reattori qui sul palco ma anche con le vostre domande anche le domande da casa è un tema immenso come immensa l'acqua come fondamentali sono i beni comuni però il tema dell'acqua che è il centro attorno a cui si ruota anche in queste giornate è un tema emblematico delle sfide che il capitalismo oggi sta affrontando che non è un bene come gli altri non è soltanto ci sono tanti beni che sono a rischio oggi di estinzione o comunque sono sotto stress sono molto sono guardati con enorme attenzione perché si stanno sono in difficoltà non sappiamo se saremmo capaci di custodirli però l'acqua è qualcosa che viene prima di tutto perché noi siamo acqua senza diciamo l'acqua è vita e abbiamo sempre conosciuto l'acqua come un grande tema della siccità del mondo però prima si pensava che fosse un problema diciamo regionale o di grandi regioni anche se immense come subsahariane però oggi stiamo accorgendo che sta diventando veramente una sfida globale per tutto il mondo perché l'acqua somma in sé delle dimensioni tutte decisive è il tipico bene comune il common direbbero gli inglesi e lo è per molti aspetti pensiamo ai fiumi ai laghi ai mari alla pioggia che sono dei tipici beni comuni nel senso che vi dico tra poco come almeno l'economia riguarda non ha sostituti è molto nota la battuta di Lenny Bruce ho inventato l'acqua in polvere ma non so dove scioglierla cioè non ha sostituti l'acqua quindi e questo per l'economia è un grosso problema quando un bene non ha sostituti poi incorpora l'acqua una dimensione di dono e di gratuità abbiamo sempre fatto resistenza a immaginare l'acqua soltanto come una merce perché sentiamo che il bicchiere d'acqua non si nega neanche al nemico c'è qualcosa che ha a che fare col dono che riguarda direttamente l'acqua i fiumi quando dobbiamo immaginare la gratuità sulla terra pensiamo alla pioggia pensiamo anche appunto alla Bibbia evangelica che piove sui buoni e sui cattivi pensiamo ai fiumi pensiamo ai mari che non sono non ci piace quando diventano proprietà privata almeno nelle loro dimensioni fondamentali possiamo forse accettarlo per l'acqua minerale già con fatica ma non lo accettiamo per l'acqua in quanto tale quindi l'acqua ad esempio è fondamentale anche in un codice culturale spirituale immenso come la Bibbia la Bibbia è una storia dell'acqua dalla Genesi fino all'Apocalisse che non a caso entrambe si aprono e chiudono con l'acqua l'acqua è un immenso simbolo perché è simbolo della vita anche dell'ambivalenza della vita perché l'acqua fa vivere ma l'acqua anche uccide nei neofragi nelle tempeste come tutti vediamo ancora oggi e quindi per riflettere sull'acqua bisogna parlare dei beni comuni i beni comuni e il bene comune sono chiaramente legati a far di loro cose diverse ma non così diverse perché il bene comune è una sorta il bene comune della filosofia della teologia con la bigrande somiglia anche all'acqua a un parco a una fontana a una foresta perché in qualche modo è indivisibile riguarda una collettività nel suo insieme però i beni comuni sono stati guardati dall'economia troppo poco ma un po' per capirne alcune caratteristiche fondamentali e decisive innanzitutto c'è come dice quella bellissima maglietta che gira qui appunto l'acqua è sostantivo femminile che nell'economia esiste un rapporto tra l'acqua e le donne cioè questo c'è anche nella bibbia sappiamo che gli incontri con le donne avvengono quasi sempre attorno ai pozzi Rachele fino alla Samaritana che erano i luoghi della vita dell'acqua ma anche la prima la prima economia il primo articolo sui beni comuni pubblicato su un giornale di economia il più importante l'American Economic Review nel 1911 il primo numero del primo volume di questo giornale oggi fondamentale tutti vorrebbero pubblicarci anch'io e non sono ancora riuscito il più importante del giornale del mondo si apre con un articolo di una donna sull'acqua nel 1911 Katherine Conan che è la prima ad aprire il tema dei beni comuni in un modo serio e si occupa proprio dell'acqua e l'ultima importante studiosa che si è occupata di beni comuni Edina Rostron è una donna l'unica la prima ad aver vinto un Nobel per l'economia c'è una dimensione femminile il rapporto all'acqua forse perché ha a che fare col corpo con la vita con i rapporti perché l'acqua ha un problema di relazioni Amartya Sen che ha vinto un altro importante Nobel per l'economia un maestro di tutti penso qui quando studiò e vinse il Nobel per quello studio la carestia in India lui si accorse che durante le carestie in India non è che mancassero l'acqua e i beni si spezzavano i rapporti cioè quell'acqua non riusciva più ad arrivare alle persone giuste quindi allora colei che per natura per vocazione ha a che fare col corpo con le reazioni in modo tutto particolare sembra anche avere un rapporto particolare anche con l'acqua appunto la donna c'è una dimensione interessante diciamo del femminile il rapporto ai beni comuni ma la teoria economica ha una sua responsabilità io sono un economista di mestiere uno storico del pensiero economico noi abbiamo come docenti di economia una responsabilità nell'eclissi dell'acqua e dei beni comuni perché i beni comuni si guardano poco perché la prima a guardarli poco è stata ed è l'economia la teoria economica io che insegno da 30 anni economia in università i beni comuni si insegnano quando va bene in una lezione di due ore su un corso annuale se c'hai un professore che va proprio a scovare quel paragrafo del capitolo sull'intervento pubblico in economia ma tutto il resto è dedicato ai beni privati appunto al panino alle scarpe ed è dedicato al consumo tanto che c'era Federico Caffè un importante economista romano che diceva dovremmo cominciare a insegnare agli studenti l'economia dalla produzione non dal consumo come nascono i beni il lavoro la catena produttiva la filiera perché al rimando questi beni arrivano già pronti al consumatore come nasce quel bene il lavoro umano e quindi la natura la terra la terra nel settecento era fondamentale in economia erano tre i fattori produttivi lavoro capitale e terra dall'ottocento la terra è scomparsa l'eclisse della terra sono diventati due gli assi lavoro capitale e la terra non c'è più quindi non abbiamo più visto la terra ma abbiamo più visto l'acqua ma abbiamo più visto i beni comuni tanto che quando nel sessantasette un biologo non un economista pubblicò su Science the tragedy of commons la tragedia dei beni comuni Arden fu un biologo ad aprire il tema non un economista e disse noi stiamo distruggendo i beni comuni la tragedia perché la logica economica normale ordinaria distrugge i beni comuni cioè l'home economicus non è custode dei beni comuni perché tende a guardare il proprio punto di vista non è che è cattivo attenzione cioè non è che che in passato le industrie noi stessi abbiamo distrutto il pianeta intenzionalmente fino a qualche decennio fa probabilmente era sottovalutato l'impatto che noi stavamo avendo sull'acqua sugli oceani sull'atmosfera abbiamo fatto dei danni in qualche modo in modo innocente ma la buona fede non vuol dire innocuità si può essere in buona fede e fare un sacco di danni come è stato però l'home economicus l'uomo secondo l'economia guarda il suo interesse massimizia il suo interesse e facendo questo funziona abbastanza col panino e con le scarpe ma non funziona con i beni comuni perché li distruggiamo senza volerlo il famoso esempio che lui fa Arden questo articolo del pascolo comune dove ogni contadino porta le sue mucche una comunanza tutti possono usare quella comunanza tutti possono portare mucche ognuno penserà alla propria mucca quindi io ne porto una in più perché mi interessa il mio latte e questa logica produce la fine dell'erba senza che nessuno lo voglia quindi sono tutti effetti non intenzionali sono effetti perversi che accadono allora perché oggi noi stiamo qui a riflettere perché l'economia da sola e il capitalismo da solo non ce la fa a salvare i beni comuni se non accade qualcosa di diverso di politico ma non sta accadendo io ho questa impressione forse perché sono ottimista di natura però io che insomma per lavoro parlo con i grandi amministratori delegati con chi in qualche modo tesse le fila comunque negli ultimi anni ho visto un grande cambiamento anche dopo il covid sono cambiate le priorità delle persone è cambiato se vogliamo il modo di lavorare è cambiata anche in certo modo l'attenzione non si parla più solo di shareholders di azionisti ma si parla sempre di più di stakeholders quindi delle persone cioè è tutto così perché la tua analisi ci fa un po' paura viviamo in un sistema capitalistico ce ne freghiamo dei beni comuni siamo fregati no? oppure oppure io sto facendo la foto di quello che abbiamo fatto se ora siamo capaci di cambiare qualcosa ne riparliamo ma essere d'assisi in queste condizioni climatiche io dico sicuramente sta accadendo qualcosa ma la mia impressione diciamo da osservatore e da studioso è che accada troppo poco cioè questa denuncia di Greta e dei teenagers la terra il pianeta brucia la casa brucia come vi permettete voi adulti quel discorso che ha fatto Greta alle Nazioni Unite è più importante il discorso politico del XXI secolo cioè come vi siete permessi di lasciarci il pianeta così cioè la mia impressione è che noi facciamo qualcosa perché non si può non fare niente perché c'è una domanda dal basso non facciamo abbastanza perché se il problema è se siamo riusciti a spostare l'eliminazione del diesel oltre il 35 perché era troppo vicino il 35 voi capite che siamo su un altro pianeta quindi si sta sta cambiando qualcosa la mia impressione è che non sta cambiando abbastanza velocemente perché non possiamo aspettare soltanto i consumatori che scelgono giustamente i prodotti a impatto zero perfetto ci vuole più politica cioè se non c'è un'azione politica forte molto più forte di quella che stiamo facendo non è semplice non dico migliorare ma almeno non continuare a peggiorare io volevo concludere però se c'ho cinque minuti con due immagini di prendendoli in prestito dalla letteratura perché siamo qui appunto con con un narratore in un ambiente anche che ha una sua dimensione artistica un poeta un autore appunto che conosciamo tutti siamo ad Assisi quindi mi sembrava anche che di prendere in prestito due immagini dalla grande letteratura per dire diversamente le cose che in fondo i grandi autori dicono meglio del del linguaggio scientifico delle cose che sono molto simili ma lo dicono con la bellezza e con l'estetica uno è Giovanni Verga è la sua novella La Roba perché questa novella per me è emblematica oggi? Perché Giovanni Verga racconta la storia di Mazzarò come tanti di noi conoscono almeno dalla scuola questo signore che si era fatto tutto da solo da povero da garzone era diventato ricchissimo tanto che l'acconto inizia e questo viaggiatore che in Sicilia domanda di chi è questa roba e risponde il cocchiere di Mazzarò e quest'altra di Mazzarò questa mandria di Mazzarò questo greggio di Mazzarò tuttora di Mazzarò ma dice dice Verga che Mazzarò non aveva fatto i conti con un fatto che doveva morire e cioè che stava arrivando alla fine della sua vita e lui si rende conto che non può portarsi la roba con sé e fa due cose Mazzarò che poi diventa Don Gesualdo stesso personaggio qualche anno dopo del romanzo infatti c'è la stessa conclusione del racconto del romanzo e della novella che fa Mazzarò o Mazzarò Don Gesualdo fa due gesti uno da una bastonata un giovane che passa davanti lo colpisce in mezzo alle gambe con un bastone cioè quando l'invecchiamento è avido egoista e non è generoso il vecchio odia il giovane perché gli ricorda ciò che lui non ha più quindi noi siamo un mondo di vecchi che tende a non amare i giovani e gli da delle bastonate perché gli stiamo complicando molto la vita basta guardare appunto che mondo stiamo lasciando poi fa una seconda cosa che è molto più nota che tutti ci ricordiamo va nella sua aia prende un bastone forse lo stesso con il colpito il ragazzo e uccide tutte le galline le occhi i tacchini e dice roba mia viettene con me cioè l'uomo economicus puro tanto che lui non aveva né figli né nipoti Mazzarò come dice il testo si mangia l'ultima gallina l'ultimo giorno di vita non c'è nessun motivo di lasciare la roba la terra a chi viene dopo perché non è nelle caratteristiche della logica economica la generosità per chi verrà dopo di te e il secondo episodio che è molto bello e molto noto è un episodio dei miserabili dove Jean Vajan che aveva ricevuto questo immenso dono gratuito che dona uno dei temi che ci stanno a cuore da parte di Miriele il vescovo che quindi fa finta che gli ha regalato i candelieri e che non li aveva rubati come invece aveva fatto Jean Vajan gli fa questo grandissimo dono di pure gratuità Jean Vajan viene liberato dai calabinieri cioè insomma dai gendarbi si trova in mezzo alla campagna incontra un bambino savoiardo il piccolo Gervasio e gli ruba una moneta come vi ricorderete questa scena che lui nonostante questo dono enorme che aveva ricevuto non riesce ancora a guarire per amare per rispettare questo ragazzo ma appena fa questo gesto e si accorge che ha rubato questa moneta a piccolo Gervasio Jean Vajan va in disperazione comincia a urlare Gervasino 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 proprio disperato cercava questo bambino e dice una cosa Jean Vajan cioè meglio Hugo la fa dire a Jean Vajan una voce gli diceva all'orecchio che aveva attraversato l'ora solenne del suo destino che non c'era più una via di mezzo per lui che se ormai non diventava il migliore degli uomini sarebbe stato il peggiore questa frase mi ha molto colpito ci sono dei momenti nella vita dove tu puoi fare dei trade off essere un po' più buono un po' meno buono fare scelte un po' migliori di ieri si può lavorare al margine ma in certi momenti della storia se non sei il migliore sei il peggiore se noi oggi non cambiamo radicalmente atteggiamento con la terra con i beni comuni e con l'acqua se non diventiamo i migliori di tutti siamo semplicemente i peggiori non c'è il purgatorio c'è o il paradiso o l'inferno in questo tipo di scelte e io vedo in questi teenagers in questi Fridays for Future che continuano a gridare vedo questi piccoli Gervasini e noi che dobbiamo ridare loro alla moneta che abbiamo rubato dobbiamo rimparare ad ascoltare il grido dei bambini che ci chiedono non mi rubate il futuro ridateci indietro il nostro futuro perché non è vostro voi l'avete in prestito da noi grazie valero calzolaio io ti introduco con una provocazione no perché oggi parliamo di beni comuni parliamo dell'importanza del dono io mi chiedo se invece possa essere l'egoismo in qualche modo a servire a salvare l'home economicus ti do due numeri di un articolo che abbiamo scritto proprio ieri quando studiavo per venire qua noi abbiamo scritto un articolo sulla fame di migranti economici che ha l'economia dei paesi dell'est dell'Europa il titolo è dopo aver demonizzato gli immigrati l'Europa dell'est ne ha un disperato bisogno e ti do tre numeri Orban che è quello che ha messo le reti di filo spinato ha bisogno di 500.000 lavoratori stranieri nei prossimi cinque anni i miei colleghi che lavorano in Ungheria sono stati a vedere i cantieri dove si stanno costruendo le nuove fabbriche di batterie le batterie per le auto elettriche dove ci sono dei compound dove vivono 5.000 cinesi la Polonia ha bisogno di 300.000 lavoratori nei prossimi tre anni in Polonia dove hanno tantissimi rifugiati ucraini adesso ci sono hanno messo mettono dei pannelli nelle strade in Ucraino dicendo rimanete qui abbiamo bisogno di voi perché economicamente la Polonia ha bisogno di loro in totale l'Europa dell'est i paesi in alcuni sono dei paesi dove la destra ha vinto per primo in Europa hanno un disperato bisogno di migranti tant'è che gli stessi sindaci del partito di Orban ti dicono sì come direbbe Marco ciò noi voiamo però centomila ci servono allora mi chiedo ci aiuterà più il dono o saremo spinti l'umanità sarà spinta in qualche modo dell'egoismo nel tentativo di continuare non era preparata quindi magari non accetto provocazioni anche i paesi dell'Europa dell'Ovest hanno numeri di questo tipo e questo sta scritto in tutti i documenti della Commissione Europea da una ventina d'anni almeno e in parallelo l'Unione Europea costruisce muri e frontiere però poi ci torniamo e io voglio innanzitutto ringraziare Michela Signori Marco Paolini gli amici e le amiche tra l'altro quelli che ci stanno aiutando per questa chiacchierata degli incontri della fabbrica del mondo e vorrei comunicarvi un mio dato diciamo scientifico anche quando sono nati tre vecchi o meno giovani di questa parte del tavolo l'indimenticabile 1956 e forse anche quando è nato il mio maestro e amico che ci sta ascoltando che si chiama Carlo Petrini la quantità di acqua sulla terra era uguale a quella di oggi credo che anche quando hanno cominciato a emergere i primi organismi unicellulari di vita l'acqua sulla terra cioè circa 4 miliardi di anni fa era più o meno uguale a quella del 1956 e anche a quella del 2023 cioè la quantità di questa molecoletta di tre atomi è rimasta più o meno sempre uguale ovviamente era distribuita da sempre in un modo diverso su questo nostro pianeta ma il pianeta preesisteva all'acqua non è l'acqua che l'ha creato e quindi il vostro titolo la fabbrica del mondo funziona per l'acqua perché probabilmente e poi ci sarà un grande scienziato che sa tutto sulla biologia evoluzionistica e ce l'ha insegnata qualche barlume qualche spunto a molti di noi non tutto si sa nemmeno sui primordi della biologia evoluzionistica sapete quando andavamo a scuola si diceva il brodo primordiale per dire che c'entrava qualcosa l'acqua poi invece è tutto più complicato diciamo però che c'entri qualcosa l'acqua è sicuro cioè l'acqua è da 4 miliardi di anni il tessuto connettivo della vita su questo pianeta quindi quando diciamo grazie Luigi Nocroni per averci introdotto che è un bene comune vi prego di considerare che è un bene comune di ogni forma di vita anche degli organismi unicellulari anche delle piante anche dei batteri anche degli animali perché noi diciamo tendiamo a dare un valore antropologico diciamo ai beni comuni e allora c'entra l'egoismo capito antropocentrico scusami ma c'entra la cosa diciamo dell'egoismo perché sempre questi studiosi della biologia polizionistica ci dicono che è una forma di egoismo anche salvaguardare la vita intorno a noi cioè che non è che lo facciamo per gli animali per gli ecosistemi perché siamo verdi no lo facciamo per sopravvivere ecosticamente come individui come comunità di individui come popoli e come specie cioè non è che stiamo facendo come posso dire è un dono che facciamo a noi stessi non è mi dai sto micro anche se facciamo un referendum mondiale comunque siamo tutti d'accordo che almeno le zanzale le possiamo sterminare anche i batteri sono d'accordo su questo non è che tutto ci descrivono i libri sulla funzione essenziale delle zanzare delle armi cioè è tutto capito è dura ovviamente questo non significa che ogni forma di vita o ogni individuo di ogni specie no ha lo stesso valore di quello che è per noi per noi la vita umana è sacra e questo non lo possiamo estendere a ogni individuo di ogni forma di vita perché anzi una dinamica diciamo di gerarchie di squilibri negli ecosistemi c'è necessaria c'è la preda c'è il predatore in parte la preda ha evoluto le sue capacità di migrare del movimento di mangiare di sopravvivere alla siccità a suo modo proprio a causa di queste dinamiche negli ecosistemi quindi dobbiamo avere un equilibrio che non c'ha però noi al centro o non c'ha per avere la garanzia della nostra egoistica sopravvivenza è bene che teniamo conto del resto e quindi ci colleghiamo l'acqua nel senso che quasi sempre le specie che hanno cominciato ad essere agentive cioè circa 500 milioni di anni fa a potersi organizzare a poter controllare i propri movimenti per sopravvivere e riprodursi hanno scelto posti vicino all'acqua non necessariamente laghi cascate e le seiscelle diciamo non necessariamente questo poi dipendeva da ogni specie e molte specie sono sopravvissute anche con poca acqua perché la scarsità di acqua essendo distribuita diversamente è sempre stata tanta non è quello il problema il problema più recente è che noi la utilizziamo male perché non tutta l'acqua è uguale anche se è sempre una molecola eccetera eccetera non tutta noi la beviamo noi l'acqua del mare non la beviamo è acqua salata e nemmeno tutta l'acqua dolce beviamo perché l'acqua deve avere una caratteristica per poter essere pubblica che viene definita palatabile cioè dobbiamo dissetarci diciamo così e ovviamente questa palatabilità è diversa da specie e anche per noi umani è diversa cioè a noi non gli piace allora bevete per favore sempre ovunque che capita l'acqua del sindaco l'acqua del rubinetto poi se vi serve un manierale particolare che sta solo in quell'acqua integrate se poi avete un problema che siete tanto stanchi e volete prendere un po' d'acqua cassata la comprate quella la pagate di più Tommaso se non sbaglio serve serve io suggerisco diciamo quella è la regola quella gassata serve può servire l'acqua può servire però ha questo carattere eccezionale perciò da pagare noi in Veneto usiamo il prosecco invece in questa situazione me l'avevano detto bisogna che vi frequento di più integra anche quello bisogna che vi frequento di più sotto questo punto di vista quindi all'acqua sono associate le migrazioni delle specie prima di quella umana e poi le migrazioni umane da sempre da sempre cioè noi abbiamo cominciato a insediarci vicino a grandi luoghi che ci garantivano l'acqua e poi diventando sapienti residenziali abbiamo cominciato a infrastrutturare il territorio proprio lavorando sull'acqua canalizzandola garantendocela quando c'era l'anno che ne veniva di meno eccetera eccetera e quindi la nostra diciamo vita come specie è legata alla presenza di acqua palatabile o di acqua comunque necessaria agli animali e alle piante che noi coltivavamo e allevavamo che non necessariamente deve essere potabile hanno fatto uno studio per cui da 8000 anni circa la metà della popolazione umana 8000 anni fa non eravamo nemmeno insomma eravamo pochi diciamo qualcuno dice pochi milioni adesso siamo 8 miliardi figuratevi voi ma comunque da 8000 anni c'è stata questa crescita enorme demografica la metà della popolazione umana è collocata più o meno su una stessa fascia latitudine che è quella dove la temperatura media ovviamente tenete presente che siamo dopo la fine dell'ultima tracciazione quindi il clima è complessivamente più umide che è quella fra meno undici e più quindici di media ecco di media però la maggioranza della popolazione sempre questo studio fatto su 8000 anni dice che si verificherà lo scenario più business del rapporto ultimo dell'IPCC ci saranno circa 3 miliardi di persone nei prossimi 60-70 anni che migreranno perché verranno più o meno in questa fascia latitudinaria perché qui anche se noi ci sposteremo sempre più da sud a nord inevitabilmente però dentro questa fascia che tenderà quindi a restringerci come intervallo di latitudine arriverà tanta gente ma non perché sta male dove sta i dittatori no è un problema di sopravvivenza anche di quelle comunità proprio per questo con Telmo in Pievani ci siamo inventati un binomio poi abbiamo messo una sola espressione nel titolo libertà di migrare ma il binomio è diritto di restare e libertà di migrare ho visto che è diventato molto popolare che anche io la chiamo la presidente del consiglio scusatemi non è irrispettoso ognuno fa quello che vuole nel definire le cariche istituzionali ha detto il diritto di restare è importante noi siamo stati felici speravamo però nel titolo ci avevamo messo libertà di migrare non si è vendita una copia in più è proprio terribile no il diritto di restare è complementare la libertà di migrare non è alternativa certo cioè noi dicevamo perché noi abbiamo parlato non di diritto di migrare ma di libertà che è dentro il fatto che ognuno deve poter continuare a vivere dove è nato con chi gli piace dove si è trasferito per amore per lavoro per qualsiasi ragione non può essere costretto a una migrazione forzata questo significa salvaguardare il diritto di restare che è contemplato da tanti articoli della dichiarazione universale dei diritti umani che dicono diritto alla vita diritto al lavoro diritto alla salute diritto all'alimentazione diritto al cibo cioè tutte quelle cose lì se le sintetizzate in 64 caratteri viene fuori il diritto di restare la libertà di migrare è un'altra cosa è sempre prevista dalla dichiarazione universale che parla di libertà di movimento cioè e questa è una conquista umana in parte ce l'hanno anche altri no? e è cosa diversa la fuga da questo tipo di libertà noi abbiamo provato sempre a dire le migrazioni forzate andrebbero abolite tutte viva i governi che vogliono abolire le migrazioni forzate che significherebbe abolire le guerre abolire le dittature abolire le persecuzioni degli omosessuali abolire le persecuzioni razziali abolire le persecuzioni politiche quindi quelle aboliamole tutte se se vuole mettiamo anche questo nei obiettivi del millennio 2015 2030 come azzerare la fama azzerare la sede e azzerare le migrazioni forzate viva ma questo non significa azzerare le migrazioni perché le migrazioni sono quello che ci hanno reso una straordinaria specie mitigia che si alimenta del fatto che i pomodori non c'erano qui fino a 500 anni fa e i primi 250 anni venivano utilizzati nei giardini per il rosso ok non come alimento non c'erano non c'erano e loro gli squalli di messicani dell'America Latina non c'erano i piselli che dobbiamo fare? ma il mondo è fatto e è cresciuto da migliaia di anni da questi incroci quindi la libertà di migrare si coniuga con il diritto di restare e nella felicità del dono di cui voi parlate c'è la felicità dell'accoglienza ma perché non la prendete dentro la felicità del dono l'accoglienza ma una persona diversa certo che se qui arrivano improvvisamente dieci corrazzieri del presidente della repubblica un po' cioè che sta succedendo cioè ogni volta che arriva qualcuno leggermente diverso dalla comunità nella quale siamo inseriti ci abbiamo un attimo di ma poi subito dopo se ci può dare qualcosa se è simpatico se ci racconta una marzelletta anche un garazzo della repubblica può essere una presenza vitale no? quindi ci può essere la felicità dell'accoglienza poi certo va messa alla prova della nostra cultura della nostra lingua delle nostre leggi ci mancherebbe però forse se la mettiamo così e diamogli subito un bicchiere d'acqua io trovo molto interessante come tutto sia legato l'acqua il bene comune il global warming che spinge le migrazioni cioè no è un cantiere che Marco Haime che non ha bisogno di presentazioni ma è un cantiere che fa capire come siamo sempre molto più interconnessi di quanto no si pensi il fattore climatico lo diceva Valerio nelle migrazioni ha una componente importante molto intanto buonasera a tutti grazie per essere qui grazie a tutti gli amici della fabbrica del mondo per avermi invitato sì mi allaccio proprio al discorso che hanno fatto l'origine Valeria perché in effetti nella narrazione riguardo alle migrazioni cioè nella narrazione mainstream le ritoriche dominanti in genere noi vediamo sempre solo l'ultima parte cioè l'arrivo non vediamo mai la partenza e mai ci chiediamo perché di colmo c'è stato questo enorme flusso e alcune ragioni sono quelle che in parte anche agli antici c'è un'altra valeria c'è un'altra valeria a volte sono casate le guerre dittature persecuzioni in molti casi però non dimentichiamo che anche molti conflitti hanno direttamente o meno o indirettamente delle origini di tipo ambientale molto spesso sono conflitti per carenza di risorse per cui uno va a cercarle da altre parti e questo porta a innescare quindi questo cambiamento climatico è uno dei punti centrali intanto ci sono degli studi molto interessanti come fanno vedere dove nelle zone più colpite da questo cambiamento sono anche le zone dove c'è una maggiore percentuale non solo di morti ma anche di violenze di conflitti di stupri di tutti gli eventi negativi sono le regioni più colpite da questi elementi negativi quali sono le cause sono molte e a volte interconnesse molto spesso legate a quello famoso effetto farfalla cioè non direttamente per esempio lo scioglimento dei ghiacci nel polo da un lato può portare a un totale per esempio cambiamento del stile di vita delle popolazioni artiche e in certi casi spingere delle persone migrare non c'è più abbastanza pesce ma addirittura in alcuni casi per esempio può esserci una diminuzione del pescato che va a influire faccio un esempio le coste del Senegal o della Mauritania dove la popolazione vive in gran parte di pesca e vede meno afflusso di pesce e anche qui una carenza una cosa che accade al polo può avere dei riflessi addirittura sull'Africa occidentale una parte anche delle emissioni di CO2 viene assorbita dagli oceani ma questo causa un aumento dell'acidità e anche questo può portare a che cosa? a un impoverimento dei piccoli microorganismi che formano il plankton che causano a loro volta un impoverimento dei grandi mammiferi marini e quindi di nuovo è una catena che porta a delle carenze alimentari il riscaldamento aumenta tenete conto che è un dato che il relatore rispetto a 30 anni fa è raddoppiato il numero di giorni in cui nel mondo si superano i 50 gradi oggi siamo uno di questi e quindi ecco questo provoca che cosa? per esempio diminuzione dei ghiacciai e anche un abbassamento delle portate dei fiumi molte popolazioni che vivono grazie al fiume sia come fonte di alimentazione di acqua ma anche come mezzo di trasporto rischiano di non avere più condizioni sufficienti per vivere si parla del delta del Niger o nel Bangladesh o addirittura la portata del Nilo potrebbe ridursi di quasi il 50% entro fine secolo queste sono delle previsioni e questo immaginate cosa vuol dire per un'economia per tutte le popolazioni che vivono questo ulteriore scaldamento porta che cosa? al fenomeno anche della desertificazione il caso forse più eclatante è quello del Sahel questa fascia sub-sahariana che nel medioevo era Sahel una parola che vuol dire sponda in arabo Sahil era la sponda sud del Sahar dove sorgevano città importantissime e anche ricche Timbuktu genega o 5T e oggi è una sorta di cicatrice sul mondo l'aumento di temperatura la diminuzione dell'acqua e anche un aumento demografico che ha causato come fattore complementare un maggior taglio di legname fa sì che ci sia il deserto avanzi e quindi le possibilità di coltivare in questi territori stanno diminuendo non è un caso che la stragrande maggioranza degli africani che tentano di raggiungere l'Europa viene dalle regioni saheliane e non perché ci sono dittature gruppi jihadisti e tutto quello che oggi viene chiamato Sahelistan addirittura ma soprattutto perché non ci sono più delle condizioni sostanziali tenete conto che già le condizioni in queste parti in queste regioni d'Africa erano già limitate prima ancora quindi un minimo cambiamento può inniscare delle spinte fatali ma non è solo una carenza di cibo e di acqua il cambiamento di temperatura per esempio ha fatto sì che siano aumentate gli attacchi la malaria e il virus zika l'altra tua amica zanzare Marco ha proposto che hanno anche qua una causa maggiore di morte c'è un'estinzione rapidissima delle specie animali in queste regioni per carenza di acqua per condizioni di temperature diverse a cui non si abito quindi animali o se ne vanno in alcuni casi se possono o in alcuni casi invece non ce la fanno più tenete conto che peraltro adesso parlo molto dell'Africa perché gran parte dell'immigrazione arriva di qui poi è un po' la parte di mondo che conosco un po' meglio ma tenete conto che l'Africa è il continente che avrà meno sbalzo termico perché già è abituato a temperature alte però avendo delle regioni dei territori così fragili ecco che un minimo cambiamento può essere letale per molte quindi l'Africa si si surascalderà un po' meno ma forse pagherà il prezzo più alto pur essendo quella meno colpevole dell'inquinamento perché è quella che ha pensate poi anche altre cause che ligano direttamente o indirettamente forse come alle migrazioni ma faccio un caso il lago Chad il lago Chad era il settimo lago del mondo dagli anni 60 il volume d'acqua è diminuito di 13 volte le popolazioni che vivono attorno al lago Chad stanno soffrendo la fame non c'è più abbastanza pesce non c'è più abbastanza risorse e soprattutto la parte giovane dei più giovani impoveriti diventano reclutamenti facili per i gruppi terroristi in particolare Boko Haram che in Nigeria è proprio e capite che quando una popolazione ha la fame bastano pochi soldi e uno lo faremo anch'io per primo sia ruola con chiunque pure che ti faccia sopravvivere per cui per esempio è interessante vedere come anche il caso di un terrorismo islamico come quello di Boko Haram è legato anche non è l'unica causa ma la causa ambientale favorisce anche questo tipo di reclutamento questo aggiungiamo anche la deforestazione che indica anche questo e praticamente cosa cade che il Mediterraneo è diventato una sorta di frontiera climatica tra un'Africa povera e un'Europa ancora ricca e si parla che dall'Africa tenete conto che l'Africa ha uno sviluppo demografico altissimo oggi ha toccato un miliardo che non è tantissimo se rapportato a tutto il territorio africano ma teniamo conto che ci sono vastissime aree disabitate ma soprattutto con un tasso di fertilità di 4,6% il che fa sì che secondo le previsioni nel 2050 gli africani saranno 2 miliardi poco meno di metà a meno di 18 anni e questo è anche un fattore la demografia è destino il tasso di fertilità in Italia adesso è 1,2% giusto per fare un raffronto in Europa 1,2% ecco in Africa è 4,6% ecco avremo una massa di popolazione giovane che tenderà in qualche modo a spostarsi e fino adesso ho parlato dei migranti in senso che arrivano da noi però è uscito da poco un libro anche interessante si intitola il secolo nomade dove dobbiamo anche noi fare i conti noi inteso qui in occidente con questo cambiamento climatico perché molti tipi di culture si staranno a spostare o in alto o a nord e di conseguenza anche le persone e le popolazioni tenderanno nei prossimi decenni a spostarsi sempre più a nord sapete un piccolo aneddoto che i produttori di champagne si stanno accaparrando tutte le terre dello Yorkshire perché la zona che sta diventando la migliore per quel tipo di vinificazione non è più la Francia ma è diventata l'Inghilterra forse come in Austria e anche recentemente sono stati in Val d'Aoste hanno recuperato quei vignetti in alta quota 1500 metri che erano stati abbandonati perché scomodi ma oggi invece si torna in una zona climatica molto molto più favorevole che quella io quest'estate i pomodori più buoni li ho mangiati in Alto Adige veramente ecco e tenete conto che per esempio sono stati fatti dei calcoli che per alimentare un maggior consumo di elettricità per la rendere condizionata occorrebbe una quantità di elettricità supplementare pari a quella di Stati Uniti Giappone e Unione Europea messi insieme per tutto il pianeta e quindi l'innalzamento del livello dei mari potrebbe causare una spinta anche al movimento delle città costiere alcune quali sono a rischio e non solo in Oceania dove è più evidente il fattore e si calcola che la fascia ideale sopra la quale si vivrà meglio tanto sarai curioso perché nelle proiezioni i paesi più ambiti saranno la Russia la Siberia l'Alaska negli Stati Uniti cioè i posti più freddi la Scozia i paesi baltici cioè comunque la fascia sarà spostata sopra il 45esimo parallelo ho guardato sulla carta passa a Moncaglieri due chilometri sotto Torino quindi mi sono sentito un po' immobiliare di Moncaglieri esatto per due chilometri sono fuori sopra nord per cui ecco quindi anche qua quando parliamo di migrazioni cerchiamo di non vederne solo l'arrivo anzi spesso i media ci parlano sempre solo del Mediterraneo tra l'altro il Mediterraneo è una parte minima delle rotte migratorie ormai la grande rotta è quella balcanica però sembra che tutto accada esatto e soprattutto noi non sappiamo nulla invece di quello che accade prima in Africa e il Sahara oggi è un cimitero e non sapremo mai quante persone sono morte per sete fatica o a volte anche poi per corse delle guardie quindi ecco quando sentiamo parlare di immigrazione proviamo sempre a fare quel passo in più a pensare che non c'è solo l'arrivo a Lampedusa o altre cose ma dietro c'è tutta una situazione in cui anche noi siamo parte in causa e a volte anche molto colpevole posso Marco posso dire che continuiamo a parlare usare una parola migrazione continuando a riferirci alle frontiere mentre esiste uno spostamento all'interno delle frontiere che è un dato economico per cui non siamo tutti sapiens uguali i primi a migrare sono i contadini sono coloro che sono legati alla terra quando le condizioni di lavoro di quella terra mutano si spostano in città le città di conseguenza continuano in qualche maniera ad accumulare la somma delle fragilità di quello che sta fuori questo non riguarda solo l'Africa questo riguarda noi cioè questo è un paese il nostro che rimuove il fatto di essere composto per il 30% di pianure per il 70% di territori montani e ci sono intere aree del nostro paese che vivono lo spopolamento per condizioni di disagio che a volte è quello cronico che si accumula ma a volte siamo talmente fragili che una delle conseguenze dell'alluvione in Romagna è che una serie di attività economiche ne parlavo stamattina con un vostro collega che sono attività economiche di allevamento e coltivazione per il crollo delle strade che saranno ripristinate ma in epoche storiche e questo spasamento tra l'azione di riparazione del danno e il tempo crea nel frattempo una insopportabilità economica dell'attività che la fa esaurire non può reggere sei mesi senza esistere per poi ripartire non siamo tutti uguali noi sapiens se rimuoviamo il sapere di chi produce sulla terra chi sta nelle città non potrà mai ricostruire quel sapere e aggiungere ancora una cosa che anche se quella del migrare è una tragedia per chi la vive è un sforzo però come diceva Pier Valerio è la costante della nostra storia ci siamo sempre spostati e le migrazioni e le diversità producono ricchezza il papà di Steve Jobs che ha inventato l'Apple è un immigrato siriano che è immigrato negli Stati Uniti dove si è sposato con una ragazza immigrata dalla Germania l'amministratore delegato di Google adesso è indiano viene da un piccolo paesino dell'India viveva in una casa di 20 metri quadri ed è finito in America per meriti di studio il fondatore di Google Sergei era russo i genitori sono Brin i genitori di Brin quindi tutti i giorni quando accendiamo un iPhone accendiamo qualcosa che se le frontiere non facessero muovere le persone probabilmente non sarebbe successo ma in tutto ciò Alessandra Valerini avvocato esperta di diritti cosa c'entra l'economia no? con la violazione dei diritti e e perché è importante parlarne? Buonasera a tutti mi ringrazio per la fiducia anche perché anch'io me lo sono domandato ma cosa c'entro io qua stasera ho visto che hai preso tanti appunti però sì sì però lui c'era tutti precisi i miei guardate come sono questo mi dà l'idea di cosa c'era la mia testa e allora mi collego a un po' di cose che sono state dette pensavo all'acqua e pensavo che in Sicilia l'acqua è gratis se tu entri in qualunque bar e chiedi un bicchierre d'acqua ti dicono no l'acqua è gratis perché lì sanno cos'è l'accoglienza e quando sul molo di Lampedusa approdano le persone salvate in mare i volontari che stanno che conosciamo che stanno sul molo offrono acqua o un tè caldo l'acqua è anche quella però salata in cui molti profughi annegano cercando di arrivare in Italia è vero c'è anche la rotta balcanica che non è meno feroce di quella del Mediterraneo e arriviamo ai costi perché le persone prendono la barca o perché fanno quella rotta infelice dei paesi balcanici a Genova mi dicono per risparmiare sono di Genova e quindi la soluzione per risparmiare costerà meno non è vero costa di più i trafficanti di esseri umani costano di più dell'Italia di Ryanair e di seguito e in più c'è un costo di sofferenza mostruosa appunto non sappiamo quanti muoiono nel deserto non sappiamo quante muoiono nei lager libici non sappiamo quanti muoiono in mare 1800 nell'ultimo anno ma andiamo a spanne perché non sa più ci sono barche che implodono praticamente in mare e non ne sappiamo nulla e questo è un costo perché poteva esserci il fondatore di Google su quella barca e ce lo saremmo perso io seguo tre papà siriani che erano tre medici che sono scappati nel 2013 uno era un primario dell'ospedale di Aleppo e hanno dovuto prendere la barca e in quella barca hanno visto morire le loro compagne e i loro figli è il naufragio dell'11 ottobre in cui muoiono 268 persone e tra queste un centinaio di bambini quei tre medici non è che volevano risparmiare quei tre medici tra l'altro avevano una cosa che normalmente i profughi non hanno avevano il passaporto che è rarissimo perché di solito se scappi se è una migrazione forzata cioè se non hai come direbbe Erri De Luca un indietro verso cui voltarti non hai un'altra possibilità di solito il passaporto non ce l'hai non ce l'hai perché non sei registrato all'anagrafe non ce l'hai perché sei un dissidente non ce l'hai perché sei un disertore non ce l'hai loro ce l'avevano erano medici uno era un primario avevano tanti soldi sapevano perfettamente l'inglese hanno chiesto i visti a tutti i paesi europei e tutti i paesi europei gli hanno detto no quindi hanno dovuto prendere quella barca spendendo un sacco di soldi vedendo morire i loro figli e dando i soldi a quella a quei trafficanti di esseri umani che i nostri politici a parole vorrebbero tanto combattere se vuoi combattere il traffico di esseri umani devi aprire canali legali di migrazione perché non puoi far concedere come un favore quello che è un diritto il diritto ognuno di noi lo diceva prima Valerio ve lo leggo preciso è l'articolo 13 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo ma è anche identico l'articolo 12 del patto internazionale sui diritti civili ogni individuo ha il diritto di lasciare qualsiasi paese incluso il proprio e di ritornare nel proprio paese quindi anche quello di restare volendo di tornare quando vuole abbiamo questo diritto è scritto noi abbiamo l'articolo 10 della costituzione il diritto d'asilo eppure per esercitare quel diritto che è il più sacro dei diritti devi rischiare la vita e devi spendere un sacco di soldi e questo è un cortocircuito perché tra l'altro anche la Cassazione ci dice che il diritto di chiedere asilo nasce nel momento in cui sorge la tua vulnerabilità quando c'è alluvione quando c'è la scosta di terremoto quando c'è una povertà assoluta che non mi permette di vivere dignitosamente se la mia dignità è compromessa ci dice sempre la Cassazione hai diritto di una protezione in Italia perché è la dignità è il nucleo essenziale dei diritti fondamentali dell'essere umano dove viene calpestata quella tu hai diritto di andartene e hai diritto di provare a ricostruire la tua dignità in un altro paese quel diritto sorge quando sorge la vulnerabilità ma per esercitare quel diritto devo farmi torturare stuprare mi devono sciogliere la plastica bollente sulla schiena bastonare prima parlavi di bastonate e mi veniva in mente che nella rotta balcanica una delle cose che fanno ti bastonano le mani ti rompono le falangi le dita sono poi storte e ti dicono così dipenderai sempre da qualcuno e c'è un abisso nell'essere umano che è insondabile ecco tutto questo ci costa perché se le persone potessero scegliere dove andare potessero chiedere un visto non verrebbero tutte in Italia andrebbero in paesi che gli sono anche più familiari i siriani tendenzialmente in Germania i tunisini in Francia dove parlano la loro lingua dove hanno già dei parenti che potrebbero accoglierli quindi non ci sarebbe anche il costo dell'accoglienza e invece noi li trattiamo come pacchi o peggio come rifiuti e quindi come se non avessero e non ce l'hanno in definitiva la possibilità di scegliere dove vivere e allora il primo paese di approdo è quello dove tu sei costretto a restare in più ci costa tantissimo violare i diritti umani perché ci costa rinchiudere ci costa espellere verso la Tunisia noi facciamo due voli charter a settimana ma avete idea di quanto costa fare un volo tra l'altro per ogni persona ci devono essere due poliziotti tu devi pagare la trasferta ai poliziotti devi pagare il volo i voli inquinano cioè tra l'altro di persone che poi se potranno risaliranno su quella barca perché non hanno un indietro verso cui voltarsi e allora di cosa stiamo parlando e poi diamo i soldi a queste dittature 100 milioni alla Tunisia 80 milioni alla guardia costiera egiziana la guardia costiera libica non ne parliamo li formiamo noi e 3 miliardi alla Turchia per tenere le persone per impedire che le persone vado sono cifre enormi enormi noi diamo soldi a dittatori perché violino i diritti umani è una roba che è allucinante eppure lo facciamo e invece se noi tenessimo le persone in Italia accolte degnamente con quella felicità e con quella solidarietà di cui parlavamo tra l'altro sono genovese sempre quindi solidarietà deriva da una parola bellissima solido il soldo e quindi nasce la solidarietà nasce da quella parola perché erano le obbligazioni in solido cioè quando diversi debitori si obbligavano l'uno con l'altro a saldare un debito che avevano e si obbligavano anche nei confronti del creditore quindi è un legame di solidarietà e nasce da quella parola allora se noi fossimo solidali e guardate che essere solidali non è una scelta è un dovere l'articolo 2 della nostra Costituzione dice che è un dovere inderogabile la solidarietà la carta di Nizza che è quella su cui si fonda l'unione e che ha valore di trattato e come dire è vincolante per gli stati non è lettera morta la carta di Nizza si fonda sulla solidarietà tra l'altro la carta di Nizza prima dicevate sulle generazioni future la carta di Nizza c'è questa cosa perché mi reggo due passaggi l'unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana libertà uguaglianza e solidarietà pone la persona al centro della sua azione il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future e non sono belle parole ripeto sono vincolanti per noi e ecco se noi esercitassimo questa solidarietà le persone che vengono potrebbero entrare regolarmente e potrebbero stare regolarmente e quindi pagare le tasse gli studi che vengono tra quanto ci costa tenere i migranti e quanto loro ci danno in tasse in bolli perché ogni volta che devono rinnovare il permesso pagano la cittadinanza pagano ogni cosa che fanno pagano per rinnovare il permesso devono dimostrare che stanno guadagnando per dimostrare che stanno guadagnando devono pagare le tasse quindi le pagano le tasse non scappano da lì a volte le pagano a me è capitato di un migrante che era accusato di truffa perché pagava più tasse di quello che doveva per poter far venire poi anche i parenti ma qual è il reato di pagare più tasse di quelle che puoi in Italia è un reato è grave se si diffondesse una cosa del genere siamo rovinati da manicomio ecco il insomma il costo costi e benefici dà più 4 miliardi all'anno avere migranti ci dà più 4 miliardi all'anno e e allora di che cosa stiamo parlando prima Valerio forse parlava di egoismo e a Lampedusa mi hanno insegnato tantissime cose e mi hanno insegnato che le persone non sbarcano perché sono gli eserciti che sbarcano le persone approdano mi hanno insegnato che visto che in Africa diventeranno due miliardi mi dicono vinceranno loro comunque vinceranno loro non è che possiamo arrendiamoci no accogliamoli trattiamoli al meglio possibile perché vincono loro e mi hanno insegnato che ognuno di noi nel suo piccolo occupandosi dei diritti umani lo fa per egoismo lo fa per se stesso lo fa perché vuole che quei principi di libertà uguaglianza dignità solidarietà l'intangibilità dei corpi il diritto alla vita quei diritti siano solidi per ognuno di noi e allora se io devo mantenere quel diritto solidum solidarietà se io devo tenerlo integro lo difendo e lo difendo sul corpo di chiunque non mi interessa perché non voglio che quel diritto abbia una crepa perché i diritti sono così i diritti inviolabili o valgono per tutti o non valgono per nessuno sono indivisibili e sono un bene comune grazie grazie mille per questa testimonianza io direi io per un po' per diversi anni ho seguito per lavoro un uomo che voleva cambiare le cose che io considero rivoluzionario anche se molti la pensano direttamente si chiamava Sergio Marchionne Sergio Marchionne era uno che a un certo punto di queste discussioni molto alte diceva vabbè e allora adesso cosa facciamo diceva Tommaso zero bullshit adesso cosa facciamo allora io vi chiedo cosa facciamo a voi lo chiedo nel senso da dove partiamo c'è un alibi che dobbiamo toglierci non stiamo facendo la tua l'alibi dei piccoli passi l'alibi che le cose stanno già cominciando a cambiare ma noi non vediamo i risultati però quello che stiamo facendo il risultato lo vedrà qualcuno questo è una storia che ci stiamo raccontando se noi non riusciamo a vedere immaginare dove i nostri sforzi stanno cambiando qualcosa forse non sta succedendo dunque io credo che uno dei delle delle categorie cioè che vadano messe in discussione le categorie cioè che una che una società organizzata ormai in maniera corporativa di difesa del proprio sia fragile così come una una democrazia che fonda la sua visione sulle città e non sulle parti più fragili del suo territorio così come diciamo che come dice una biologa marina che avevamo incontrato a Montegrotto stiamo guardando il mare e continuiamo a vederlo blu il problema dell'inquinamento è che noi vediamo ciò che accade sulla terra ma abbiamo una svista collettiva perché ogni volta che il nostro sguardo capita sull'oceano vediamo la superficie il colore ci consola probabilmente il grado di salinità è diverso e forse il livello dell'acqua sarà diverso ma apparentemente è la stessa massa consolante sotto non è così sotto sta diventando un deserto allora trovare le parole per far vedere il deserto laddove non è solo la sabbia e trovare le parole efficaci che ci facciano alzare il culo questo probabilmente non si raggiunge alla fine di una giornata così ma è la consapevolezza che tutto quello che abbiamo fatto oggi può essere come dicevo prima utile inutile o dannoso in qualche maniera non dobbiamo valutarlo solo da un punto di vista estetico ma dobbiamo provare a fare sintesi di tutto quello che abbiamo detto cos'è l'essenziale cos'è l'essenziale c'è qualcuno che aspetta aspetta che vengo là aspetta quando dicono che abbiamo consumato meno invece di essere contenti qualcuno si preoccupa perché diminuisce il pil cioè queste due cose qua non stanno insieme perché noi sappiamo tutti che dobbiamo mutare il nostro stile di vita ad esempio una cosa che dobbiamo mettere in discussione ma dobbiamo farlo se vogliamo bene i nostri figli non è una cosa per radical chic questa cioè dobbiamo mettere in discussione dobbiamo cominciare ad avere una macchina magari per due famiglie dobbiamo fare meno viaggi in aereo dobbiamo mettere in discussione se vogliamo ecco però ci sono delle cose che non funzionano nel nostro modo di ragionare uno è il pil cioè dovremmo essere contenti se il pil diminuisce però se invece ci preoccupiamo Tommaso è tua la risposta ma il pil è fatto da consumo e investimento in qualche modo quindi se consumi di meno ma investi di più hai fatto una buona azione anche per il pil io credo che demonizzare il pil che non vuol dire niente come è in qualche modo una demonizzazione del capitalismo della società occidentale può essere consolatorio ma nel sistema di regole in cui viviamo si può fare un pil diverso secondo me posso permettere il primo che a livello diciamo di impatto globale demonizzato il pil si chiamava Kennedy e lui diceva guardate se io produco tante più armi il pil cresce se io ho un incidente di macchina il pil cresce due volte per le spese sanitarie e per i metto a posto la macchina allora andrebbe un po' integrato però Tommaso facciamolo no? cioè per esempio come si fa nel pil a non inserire l'impronta idrica come si fa come si fa a non inserire l'impronta di carbonio cioè come non si fa perché se no la crescita automaticamente sono più emissioni bisogna far sì e anche sulla come diceva giustamente il signore guardate che se siamo qualcuno in meno non è di per se stesso declino e regresso c'è un problema per le scuole che sono tutti edifici che tendenzialmente non saranno occupati da bambini ok? quindi ci abbiamo oppure negri negri vabbè tutti negri già accordo però voglio dire è un problema per l'economia ma di per se stesso in Italia possiamo stare bene in 65 milioni o anche in 55 diciamo dipende se la gente è felice diciamo no capito cosa voglio dire non è no non è così semplice ma che gli africani diventeranno 2 miliardi e 400 milioni se andiamo un po' del 2050 è abbastanza certo nel senso che tutte le previsioni dell'ONU ci dicono che l'India e la Cina che stanno tutte e due su un miliardo e quattro poco più l'India ha da poco superato la Cina sono oramai in calo adesso la Cina si sta inventando tutte cose prima si era inventata quella per un paio di fa adesso però non è così facile anche se gli date mille euro al mese non è che una ragazza automaticamente decide con il proprio compagno o per conto suo o con la propria compagna di fare la madre perché questo è un percorso complesso e comunque ci vorrà molto tempo il punto è che se di questi 55 milioni fossero un po' di più nelle colline e nelle montagne desertificate dove non c'è nessuno dove perdiamo perciò molto in termini di utilizzo di territorio antropizzato non di territorio ecco che allora se devo dirla io la risposta direi una regola per tutti e una regola che ciascuno se la dice come gli vuole la regola per tutti è un po' più di intransigenza verso chi si assume l'onere di avere incarichi nel nome di tutti chiamiamo gli incarichi voi li chiamate politici ma io sono un vecchio politicante e mi scoccia un po' che voi pensate così male ai politici non è automatico è tutto politico è tutto coso quindi diciamo incarichi che rappresentano altri bisogna essere intransicenti se quello fa il presidente della federazione spagnola bacia sulla bocca una calciatrice bisogna essere intransicenti probabilmente non l'ha fatto con chissà quale cosa eccetera eccetera però lui ha una funzione pubblica e quindi non si lo può permette quindi chiunque si vuole assumere l'onere di fare cose per altri bisogna essere intransicenti bisogna vedere se dice una cosa bisogna controllare che la faccia la regola invece che ognuno se la gestisce come gli pare l'ha detta bene questa ragazzina alla quale tutti forse dovremmo essere grati io poi non sono non facciamo miti per nessuno eccetera ma lei si è inventata che ognuno faccia le sue tre cose è carino no? perché lei per esempio ha detto io non pio più l'aereo l'aveva preso poche volte aveva 16 anni quando l'ha detto tu ti immagini quante volte l'aveva preso poco e quello ha fatto una vita inverno perché se doveva andare a New York all'ONU e si è inventata mezzo mondo una barca che non doveva inquinare però lei dice io faccio tre cose io individuo se ognuno di noi ne sceglie tre non è necessariamente bere l'acqua del rubinetto ognuno tanti la possono scegliere ma ognuno scelga le sue tre per essere un po' più attento per essere ognuno scelga le sue tre però pensateci un attimo quando comprate una giacca quanta acqua potabile sarà costata che ci costa provarla a fare anche può essere divertente prof sono due battute io direi il famoso dipende su quelle cose che sarei dette ora su questa faccenda del PIL perché vent'anni fa c'era qualcuno che parlava della decrescita ed era preso in giro dalla mattina alla sera il mio amico Sergio Latusche forse se lo prendiamo meno in giro e un pochettino più sul serio dopo vent'anni stavamo un pochettino meglio io penso che possiamo consumare diversamente possiamo aumentare il consumo dei servizi ridurre il consumo di merci ma noi dobbiamo ridurre l'impatto sul pianeta così non si può continuare a crescere questo noi cresciamo troppo a livello mondiale non è sostenibile una crescita così perché noi finché altre cose non le diciamo chiaramente diciamo sì ma cambiamo i stili di vita sì vanno bene le tre cose ma io posso benissimo e lo faccio chiudo l'acqua del rubinetto poi guardo che il 90% dell'acqua potabile è utilizzato oggi dall'industria benissimo chiudo il rubinetto ma se non c'è qualcosa di politico oggi io per anni ho parlato con altri becchetti del consumo responsabile del consumo critico ma non basta perché le armi io non le consumo e non voto col portafoglio però qualcuno ci sono delle scelte politiche importanti di governo cioè noi dobbiamo fare più voice e più protesta dal basso perché per quanto possiamo cambiare gli stili di vita se oggi non c'è qualcosa a livello governativo globale grosso e subito quindi che noi lo chiediamo da noi protestando incoraggiando questi giovani che fanno queste manifestazioni sono molto arrabbiato con lo snob di chi dice ma questi ragazzi imbrattano le opere d'arte dico ma stiamo scherzando cioè questi qui troppo prenderanno il mitra non i vetri perché gli stanno dicendo voi siete dei delinquenti e noi siamo pacifisti e non vi facciamo del male voi imbrattate la terra noi imbrattiamo un vetro se noi non rispondiamo in modo corale a un giovane che ti grida questi qui il prossimo passo saranno le bombe questo è il punto da capire quindi l'atteggiamento snob di chi sta comodo sul divano e critica la gente che è molto preoccupata perché i giovani hanno un futuro non come noi che abbiamo un passato quasi allora per dire quindi sul PIL io credo che noi dobbiamo riflettere molto seriamente su questa faccenda qua perché c'è il dire cresciamo diversamente ma continuiamo a crescere poi per l'ultima battuta questa scelta del nostro connazionale Mancini che è andato in Rai Besodite il problema non è solo l'amore per i soldi che questa gente sta andando in un paese che cambia con il petrolio cioè dà dei segnali che non gli offrega niente da dove vengono questi soldi cioè perché paghino i calciatori cioè queste cose qui noi oggi noi oggi dobbiamo cominciare a dirle cioè ci fate ci fate tenerezza è pena perché fate cose sbagliate che state alimentando strutture di peccato di morte con queste scelte non è semplicemente perché tanto questi pagano quelli per i dollari perché quindi una voice maggiore dal basso che dica benissimo facciamo tre cose però il governo deve fare di più perché non fa abbastanza e fa male per me oggi non è più il tempo delle piccole scelte dei piccoli passi come diceva giustamente Mario ti interrompo perché in my humble opinion grazie a tutti grazie a tutti ne parliamo domani con Carlin credo di cosa possiamo fare insieme scusa non ti vedo vai vai uno grazie a tutti sì ma noi ci consigliamo stringi stringi vai no no partiamo dalla mattina elettrica se no dopo se inizio sulla macchina finiamo sul carbone in Cina grazie hai una domanda o una una confessione confessione cerca di essere stretto stretto allora mi sono sentito un attimino chiamato in causa a parlare io vivo in Sahel sono sono rientrato da poco mi sono sentito un attimo chiamato a parlare perché io appunto vivo in Sahel da qualche anno insomma le dinamiche un pochino della migrazione e di come si vive nel Sahel le conosco sono rientrato da poco a seguito dell'evacuazione in Niger ma quello è tutto un altro problema che chi adesso scoppierà e del quale l'Italia non conosce queste cose ne conosce poco quello che volevo dire semplicemente è che noi europei occidentali siamo fortunati perché parliamo di queste cose ma il mondo fuori vuole diventare come noi il nostro modello è fallimentare mostra dei limiti clamoro si si basa sullo sfruttamento degli altri sullo sfruttamento dei risorse nei paesi e noi dobbiamo metterlo in discussione punto se no non ci sarà futuro per noi in Europa perché verremo termine invasi non è non è non è bello no però accadrà questo le persone fuori da questo fortino vogliono venire da noi perché da noi si sta bene e non capiscono che hanno la capacità di poter farlo nei loro paesi se volo se noi glielo concediamo e questo è è è reale però dobbiamo insegnarli o dobbiamo fargli comprendere che il nostro modello sta fallendo e mostra i limiti e loro non ci devono rincorrere finché non gli entra questa cosa in testa parlo dell'Africa parlo di tantissimi altri paesi che rivendicano il diritto allo sviluppo quale sviluppo il nostro o c'è un altro modello allora io spesso rifletto su quello che è l'educazione un'educazione che attualmente lascia fuori l'umano lascia fuori quello che è lo studio della poesia lascia fuori quello che è lo studio dei classici ma votato alla tecnica esclusivamente alla tecnica e invece forse bisogna ripartire da quello che è un po' che è un po' umano per conoscerci e conoscere gli altri e immaginare magari un mondo un mondo diverso dove veramente poter cambiare un pochino le cose impegnandosi e sacrificandoci perché purtroppo è questo poi noi non vogliamo ma a volte anche tutto l'attivismo digitale eccetera è bello senza dubbio però fare attivismo significa rimetterci poi nella propria vita la storia insegna questo almeno questa insomma è la mia esperienza mi sento un pochino chiamato a dirlo perché sono cose che percepisco insomma un po' tutti i giorni grazie 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 tanto per la tua testimonianza Marco volevo aggiungere solo una cosa a quanto ho detto ovviamente io non so niente di economia capisco poco per cui però credo che questo credito sono d'accordissimo a monte implica proprio un cambio di paradigma culturale nella visione dell'ambiente cioè molti delle retoriche anche ambientaliste soprattutto negli anni passati vedevano sempre noi e l'ambiente ma non noi nell'ambiente è questo il cambio oggi che dobbiamo fare il cambio di passo prima tu hai parlato anche delle altre specie ecco non siamo l'unica specie siamo una delle componenti molto dannosa del pianeta se non cambiamo questo modo antropocentrico di leggere tutta la questione non ne usciremo mai perché allora vedremo sempre l'ambiente come un qualcosa che da sfruttare è chiaro che noi abbiamo bisogno dell'ambiente per sopravvivere ma ci sono anche delle condizioni di parità che dovremmo riflettere su questo ecco forse altre culture hanno qualcosa da insegnarci io qui ho 164 domande come facciamo? comincio a far viaggiare e chiedo sintesi raccolgo due veloci molto sintetica quello che mi ha colpito del discorso sull'acqua è che tutto è fatto di acqua che l'acqua è dappertutto e questo comporta il fatto che quindi tutto è interconnesso ma chimicamente fisicamente siamo interconnessi tra tutto e tutti io poi sono un'insegnante di scuola Montessori e Maria Montessori parlava di educazione cosmica è anche lì è tutto un'interconnessione non esiste che studi prima l'italiano poi la matematica poi farai economia o chissà che cos'altro è tutto interconnesso quello che vedo è che a me non piace parlare di politica perché io la politica la vedo qui stasera ma se no il resto è partitica quello che mi piacerebbe vedere è una associazione di categoria di chi gestisce le cose del popolo tra virgolette che si senta interconnesso perché mi pare che manchi che ci sia proprio uno scollamento fra quelli che gestiscono e la vita reale molto sinteticamente il nostro modello ha dei limiti probabilmente ha fallito ma teoricamente non abbiamo un modello alternativo quindi questo è un grande problema che vorrei sentire dagli economisti un'elaborazione di un modello alternativo perché altrimenti facciamo parole a questa definitiva mi fermo sono le 8 meno 10 è giusto però rispondi è ovvio che dipende che cosa noi abbiamo in mente per mani all'alternativo perché è ovvio che se uno pensa a come si ragionava nel novecento comunismo capitalismo ma quel mondo è morto cioè prima di in realtà al capitalismo non c'è mai stata una vera alternativa intesa in quel senso se non che non fosse il comunismo sovietico e dintorni oggi però ci sono vari modi di intendere il capitalismo non è tutto uguale cioè ad esempio io lavoro da 30 anni all'economia civile che nessuno nessuno sa almeno che esiste però qualcosa sta muovendo cioè che cosa intendiamo per impresa produrre benessere 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 nazionali l'ambiente tutto il mondo delle economie circolari non è niente cioè non è che oggi il capitalismo di oggi non è quello di 20 anni fa è quello che cercavamo prima vogliamo chiamarlo capitalismo perché non abbiamo un nome migliore però chiamiamola economia di mercato cioè l'economia dipende dai valori che la abitano noi oggi siamo qui a parlare di queste cose magari abbiamo anche delle scelte diverse questo è già un altro quindi non dobbiamo cadere nella trappola delle terze vie perché il novecento ha prodotto un cimitero delle terze vie abbondantissimo cioè se ne inventava uno al giorno e morivano tutte perché erano astratte non erano concrete oggi esistono c'è una competizione di paradigmi già in atto abbiamo vari modi di interpretare l'attuale economia io dico cerchiamo di conoscerli e di mettere in pratica ce ne sono davvero c'è una generatività di modi di fare economia oggi nel mondo che è enorme non solo l'europea o occidentale in sud America i benestar abbiamo una generazione nuova di economisti alternativi che non sono ideologici perché è sempre quello che io vedo che i giovani non sono più le grandi ideologie no sono pragmatici così non funziona ancora di cambiare e c'è una grande biodiversità di capitalismi che va semplicemente conosciuta e magari incoraggiata io chiedo Alessandra di chiudere che responsabilità no volevo soltanto collegarmi a perché volevi rispondere all'inter sì non rispondere ma una considerazione sull'interconnessione e anche sul concetto di fortuna di essere nati qua ecco ricordarci che è una fortuna l'essere nati qua non è che ce lo siamo conquistato insomma viviamo in un paese che anche se fa tanto caldo non c'è un'inondazione al giorno non c'è una guerra c'è comunque ancora un sistema di welfare e tanta roba rispetto alla maggior parte dei paesi che vediamo e quindi ricordarci che è una fortuna e che va condivisa ed è l'interconnessione e l'interconnessione nei diritti è esattamente è così proprio perché sono indivisibili e penso a Genova al Ponte Morandi quando è caduto il ponte abbiamo capito che poteva succedere a ognuno di noi quella roba succedeva in Bangladesh in India è successo a noi quel ponte che ognuno di noi percorreva almeno una volta alla settimana ci sono stati sfollati morti e lì l'immedesimazione nella città qualche giorno è durata eravamo tutti sfollati inondati eccetera e io pensavo ma chi ha costruito quel ponte in quel modo chi non ha fatto valutato la sicurezza di quel ponte chi ha addirittura in qualche modo insabbiato tutte le cose ma non avevano dei parenti degli amici cosa facevano dicevano a tutti non ci andate e e l'interconnessione da quel ponte potevamo cadere tutti e in qualche modo siamo caduti tutti e questa cosa secondo me bisogna ricordarcela e quello che sta facendo Marco con Michela di parlare di farci sentire meno soli cioè siamo qua ci contiamo ci siamo con i nostri corpi al caldo perché vogliamo fare qualcosa ed è questo questo è entusiasmante e allora metterci i corpi e metterci i corpi anche nelle proteste andare in piazza perché non lo facciamo più mettiamo un like sui social e non lo facciamo più mettiamo i corpi mettiamo i corpi quando vogliono rimpatriare le persone mettiamo i corpi a Lampedusa mettiamo i corpi mentre facciamo i salvataggi mettiamo i nostri corpi io riguardo al ho ascoltato un attimo tutte le discussioni in campo e mi sembra che effettivamente siamo perfettamente dentro lo stesso schema al di là che qualcuno sostenga senz'altro giustamente che esistono molti tipi di economie esistono delle forme di interconnessione senz'altro determinanti io credo invece che noi pensiamo di essere il centro di qualcosa e non lo vogliamo mollare questo posto che è parte del problema anche mentre ne cerchiamo la soluzione di conseguenza tentiamo un protagonismo in qualche misura che forse vive della stessa identica natura del danno che abbiamo prodotto fin qua si svolge perfettamente alla stessa maniera abbiamo sentito degli interventi ognuno di noi si rende protagonista di un intervento che porta la sua cristallizzazione del sapere eppure tutti noi nel momento in cui lui fa una domanda che senz'altro non so rispondere nemmeno io magari non impiega tempo a cercare di resuscitare quella grande vittima di questo occidente che è la complessità e quindi questo noi non lo possiamo produrle e non è vero che non esistono altri schemi non è vero che esistono altre prospettive perché ce le abbiamo alle spalle magari e ce le suggerisce la stessa acqua per cui siamo qui il ciclo la ciclicità invece noi ci pensiamo qualcosa che si svolge in una linea temporale per passato presente futuro della quale noi siamo protagonisti noi siamo titolari a dover guastare e poi anche ripristinare quando invece non abbiamo le carte in regola se continuiamo all'interno di questa logica di pensiero per poter affrontare la complessità che è la sfida che noi abbiamo davanti mentre invece alcune risposte forse ce le abbiamo dietro e sono d'accordo con l'altro ragazzo che dice forse è il momento di recuperare una forma educativa che si ispira a passaggi precedenti scolei in greco significa tempo libero non significa occuparlo quanto più possibile invece i nostri figli i nostri ragazzi vengono rimessi in questo circuito di linearità per cui sono parte del problema e parte della soluzione che non si può trovare ed ecco la mercificazione ed ecco il fatto che è bene l'acqua l'acqua l'abbiamo già trovata qui noi veniamo bagnati dalla pioggia con cui forse si è bagnato anche Leonardo da Vinci e pensiamo che sia un problema nostro da risolvere da protagonisti quando invece ricordarci la nostra mortalità addirittura sarebbe già un primo passo per tirarci indietro da un protagonismo che ha fatto molti molti danni specialmente come europei Sara grazie io ho una domanda una richiesta un'immagine forse un'immaginazione parlava dell'essenziale Marco l'essenziale invisibile agli occhi no? scrisse l'essente superi dopo aver scritto un libro per permetterci di immaginarlo disegnami una pecora il suo personaggio che ha fatto la storia di pecore ne abbiamo disegnate tantissime forse siamo stufi mi regalate un'immagine di futuro solo un'immagine di futuro bello positivo basta un'immagine non voglio tutta la complessità un'immagine soltanto io direi l'albero io direi l'albero perché noi abbiamo immaginato il capitalismo su base animale e abbiamo dimenticato l'intelligenza delle piante cioè noi dobbiamo lasciare il paradigma animale che è un paradigma predatorio e immaginarci come albero perché? perché se possiamo spostarci come individui come gli animali come umanità non c'è un pianeta B siamo fermi come le piante e dobbiamo imparare a sopravvivere stando fermi quindi ottimizzando il rapporto con l'ambiente prendendo quello che serve io quindi io mi immagino un albero quello lì lì meglio stupendi alberi come immagine di presente e di futuro e io non aggiungo una parola perché mi pare che ad Assisi a una certa ora suonino le campane che vogliono dire a casa 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 siamo pieni siamo pieni tenetevi quello che c'è Fabrica del Mondo sono tre giorni di proposte di pensieri quello che diciamo un giorno non è finito è collegabile alle cose se qualcuno viene stasera ne sono felice proverò a raccontare delle cose a modo mio